Bella raga, benvenuti in l'antor video del Capitano, beh raga Allora, oggi come potete notare già dal titolo parleremo del nuovo aggiornamento che c'è stato di Instagram Allora, su questo aggiornamento ci sono stati dei dibattiti perché molti sostengono ed è molto palese come cosa, poi lo andremo a vedere, che Instagram ha copiato Snapchat Tanti pensano di una copiata, una cosa copiata così perché va molto in questo periodo Snapchat Allora Instagram ha deciso di copiare oppure si pensa a una fusione o si pensa all'abbandono di Snapchat e l'ascesa di Instagram Ci sono tante teorie, comunque andiamo a vedere qual è l'aggiornamento e mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video Andiamo a vedere più nel dettaglio l'aggiornamento che c'è stato su Instagram e che cosa ha portato Allora, come ho già detto in anteprima, sono state aggiunte le storie Le storie le potete trovare qua sopra alla home page e non è altro come le storie di Snapchat Sono la stessa identica cosa Per esempio se noi tocchiamo quella di FedEx Potete tornare indietro o andare avanti Per chiudere basta fare come un tocco dall'alto verso al basso come Snapchat Stessa identica cosa Poi ovviamente ci sono diverse storie, cambiano ogni 24 ore E' la stessa cosa di Snapchat Per questo c'è stato uno scandalo su Instagram ha copiato Snapchat e tutto quanto Questo è l'aggiornamento più grosso che è stato dopo la rivoluzione della grafica Per fare una nuova foto basta cliccare e quindi aggiornare il vostro stato Basta cliccare su questo ok Voi potete fare la vostra foto molto semplicemente Ok, modificarla Avete la possibilità di aggiungere un testo Oppure modificarla con Disegnandoci qualcosa Comunque qua avete possibilità di scrivere quello che volete a mano libera La differenza di Snapchat è che tutti i vostri follower potranno vedere le foto che caricate Quindi non è più una cosa di nicchia Ma diventa una storia globale Una storia che possono vedere tutte le chiunque Anche persone che non vi conoscono Già Snapchat è diverso perché o vi devono aggiungere con un nome utente Oppure dovete avere il numero di telefono per raggiungervi Invece su Instagram chiunque può vedere, mettere mi piace le foto E adesso anche visualizzare le vostre storie Beh raga il video finisce qua So che è un video molto breve Però era bene tenervi aggiornati su questo cambiamento E ci vediamo in un altro video